Domani sera la Cavese saluterà la Serie C confrontandosi con l'Avellino nel derby alle ore 20 e 30 a Cava dei Tirreni per la 38esima giornata del campionato. La speranza di tutti i tifosi bianco-blu è che la lontananza dal calcio professionistico possa durare il meno possibile, ma domenica la formazione di Maiuri cercherà di esprimere il meglio di se stessa, così come aveva fatto contro la Turris. Il rammarico è sempre quello che i metelliani sono riusciti a esprimere la loro prestazione migliore solo adesso che la loro retrocessione è stata certificata dall'aritmetica, male non essere riusciti a ritrovare tale atteggiamento prima. Bastavano almeno 4 punti in più tra febbraio e marzo e forse la squadra a cui lotta avrebbe potuto ancora dire tanto nella lotta per non precipitare in D. L'Avellino, che in 35 incontri ha raccolto 20 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, se non ci fosse stata la Ternana Schiacciasassi avrebbe potuto essere in lotta per arrivare primo in classifica in C. Invece la squadra allenata da Piero Braglia ha l'obiettivo minimo di essere la migliore terza nella griglia playoff, e sarà possibile solo se vincerà e se l'Alto Adige nel girone B non farà altrettanto. Se il Catanzaro non dovesse fare punti col Monopoli, però, la compagine irpina potrebbe anche andare a prendersi il secondo posto. Questo potrà assicurare un vantaggio migliore di quello che avrebbe la migliore terza, ossia quello di attendere il possibile avversario al secondo turno degli spareggi. L'Avellino, tra l'altro, a Cava non è un nemico, e quindi questa gara, se si fosse giocata a porte aperte, avrebbe richiamato migliaia e migliaia di spettatori, anche da parte irpina. La probabile formazione della Cavese per domani. Russo, Matino e Ricchi. Pompetti, Marzupio e De Franco. Senesi, Cucurullo, Gerardi, Gatto e Matera. Squalificato Bubas, di rientro invece Scoppa, che ha scontato il suo turno di squalifica. Infortunati, Cucic, Montaperto e Semeraro. Probabile risposta dell'Avellino, di Braglia. Forte, Rocchi e Tito. Aloi, Miceli e Laezza. Adamo, Carriero, Maniero, Fella e D'Angelo. Il tecnico potrebbe concedere a Laezza la possibilità di debuttare in campionato, dopo un lungo infortunio patito proprio contro i metelliani in amichevole nello scorso mese di settembre. Il difensore ex Agropoli avrà bisogno di minutaggio e potrebbe risultare una risorsa agli spareggi. L'arbitro di Cavese Avellino sarà il signor Claudio Panettella, di Gallarate. I suoi assistenti Teodori, di Fermo e Pintaudi, di Pesaro. Quarto uomo Madonia, di Palermo. Dopo la fine del campionato di Serie C si valuterà un po' anche il futuro. Il futuro di Maiuri, che comunque ha fatto bene da quando è subentrato alla guida della Cavese. E inoltre anche a livello dirigenziale si valuterà il futuro. Sono circolate varie ipotesi per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, da Ghinassi a Federico a Pastore. Ma l'ultima opzione in ordine di tempo ad essere circolata porterebbe a Mariano Fernandes, già dirigente di Virtus Francavilla e Cerignola. Potrebbero seguire sviluppi. Confermato per domani sera alle 18.30 il raduno dei tifosi organizzati bianco-blu all'esterno dello stadio di Cava, nei pressi della curva sud in via Gino Palumbo, per far sentire comunque ai giocatori il proprio attaccamento alla casacca, al di là del fatto che la Cavese è retrocessa in D. tifosi metelliani che non hanno mai avuto la possibilità, tranne che in un'unica occasione, con il Monopoli, ma era aperta solo la tribuna, di assistere alle partite casalinghe della loro squadra. E sperano che la situazione epidemiologica possa consentire per il futuro un ritorno del pubblico negli stadi anche in percentuale minima. Anche se proprio per quanto riguarda gli ingressi contingentati negli stadi, gli ultras della Cavese avevano espresso delle perplessità. Grazie. Grazie.